Sarà consegnato a Beppe Bergomi, ex giocatore dell'Inter e della Nazionale, il premio Perioli dedicato all'ex presidente dello Spezia. A consegnarlo sarà il Comune di Arcola. Sì, il Comune di Arcola ha voluto organizzare questo premio per ricordare la figura di Coriolano Perioli. Chi era Coriolano Perioli? Era un imprenditore nato ad Arcola che ha allestito quella squadra dello Spezia del 1944 che poi andò a vincere lo Scudetto all'Arena di Milano contro il Torino di Valentino Mazzola. Una storia particolare, sconosciuta ai più, che è stata riportata all'attenzione dal libro Lo Scudetto dello Spezia di Armando Napoletano che è uscito lo scorso anno. Da lì l'idea di realizzare un premio. Abbiamo partecipato al Bando Aperto 2021 della Fondazione Cari Spezia che ha ritenuto il nostro progetto tra quelli meritevoli di finanziamento e il 31 agosto ad Arcola, presso il parco di Via Valentini al Ponte di Arcola, ci sarà questa serata dove verrà premiato Beppe Bergomi per il valore umano, il valore sportivo di tutto quello che ha fatto da uomo di sport sia in campo che ora nel ruolo di commentatore tv. Ecco, però non ci sarà solo Beppe Bergomi ma un altro appuntamento importante, sempre la solita sera. Sì, sarà una serata speciale per gli sportivi, per gli appassionati e per i tifosi dello Spezia che ne sono convinto verranno in numerosissimi perché dopo la consegna del premio che ovviamente sarà legata ad un'intervista con Beppe Bergomi per ripercorrere le tappe più importanti della carriera per parlare di calcio a 360 gradi e di sport, ci sarà Gian Felice Facchetti con il suo spettacolo teatrale sulla storia dello Scudetto dello Spezia del 44. Quindi una serata speciale davvero da non perdere, ingresso gratuito con Green Pass con la prenotazione che la riteniamo consigliabile, non è obbligatoria ma consigliabile per poter avere comunque posto in una serata all'aperto al ponte di Arcola il 31 agosto a partire dalle ore 21 presso l'area verde di via Valentini.